Pedro è molto contento, ha capito che si va a fare un bel giro la faccia sorride, Pedro un saluto ecco qua, Pedro, 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 eccolo qua, eccolo qua, contentissimo, è Pedro, andiamo si va? e a te, e a te, su, su, su scusa, Pedro, come sei? guardate la gioia, felicità, Pedro, eccolo ecco qua, stiamo arrivando, siamo ormai nei pressi del studio di Pasquale vedete, dove l'ha fatto? andiamo a vedere, c'è un'altra bellissima, guardate l'altra bellissima, è bellissima, è molto bella, compatta, nessun altro, vedete tutti i visti, hanno saluto e noi continuiamo il giro verso la sella dell'albe, poi andiamo in Pedro in splendida forma, ah, c'è qualcuno che è tornato qua, andiamo a vedere, eh ragazzi e non c'è nessuna, c'è nessuna più qua, guardate l'albella, andamela oh, c'è un bravo di qualcuno, porca ragazza, è un momento in tenda qua, complimenti, complimenti ecco qua, c'è un bravo di squad, guardate la famiglia, vedete là, car тепo Oggi c'è una neve veramente molto bella, riusciabile, neve dura, qualche centimetro di scatenato, chiaramente, andiamo qua Pedro, ti aspetta una bella giornata, ci sono un sacco di persone che oggi fanno il pinismo, guarda, non so si vede, i piccoli puntini neri, questa è la parete Nord, vediamo Pedro, stiamo avvicinando alla sella c'è una traccia di uno che passa dopo uno di noi se no le tracce sono tutte lì andiamo? ciao ciao guarda che bella parete c'è un sacco di alpinisti la ragazzi fanno esercitazioni guarda che punti in là ecco qua ormai siamo in prossimità della sella credo si sta rinfrescando l'idea è giocato quella mia allora guardate che una riga guardate che bella cresta guardate che gli accumuli che ci sono andiamo sono arrivati sulla sella adesso facciamo una tresta vediamo su sicurezza poi è il passo che ci ha avuto in fondo tutte le apuane troppo f Si Henino pedro stiamo andando un sacco di gente che sta salendo Pedro ma non ti stanchi mi sono messo la mia marietta Ciao ciao! Questa finale, qui ci siamo! Guardate che accumulo! Guardate quanta gente che c'è lassù, è un corso di alpinismo, là sotto c'è il rifugio, guardate quante persone, d'altronde una giornata così. Ci siamo ragazzi, due minuti siamo arrivati, andiamo Pedro, ci sei? Ecco qua, siamo in cima all'albe, guardate che bel crinale, non c'è nessun pesante. Ecco, questo è il cerreto, il passo, il paese, la ciotola, la ciotola, la ciotola, la casarola, nel fondo il ventasso, e quelle nel fondo sono le acquane, non so se si vede, in fondo forse non si vede, si vede il mare nel fondo. Bene, direi che possiamo scendere, già prestiamo scendere adesso. Vedo il pronto, è Pedro pronto, chiudiamo? via, prima di far scendere Pedro, sei pronto? Vai, corri, corri Pedro! Bravissimo! Mi piace! Vedo qua, qua! Vieni, vieni! Sì, vai, corri, corri! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Allora! Vieni! Sì, noi! Vieni! Sì, noi vieni, vieni! L'arico! Grazie a tutti